Se vuoi acquistare crediti passa su www.thefoodshop.com e utilizza il codice ZAMP per avere un 5% di sconto sugli acquisti Bene ragazzi come sempre ZAMP che vi parla e oggi sono tornato con un nuovo video di Figa 16 Ehm scusate volevo dire FIFA 16 Avrete già capito che cosa vi faccio vedere nel video di oggi perciò se volete vedere un po' di tette ballanti Cominciate a lasciare subito tipo 10.000 pollicioni Se non lo fate un campetto d'erba verrà ad uccidervi a casa vostra Cioè nel senso che il campo da calcio si anima e vi entra dentro casa Ehm cominciamo a non correre troppo qui eh fighette perché se no vi spacco di botte Allora il gioco con gli Stati Uniti se ancora non l'avete capito attenzione Wombach Wombach sembra un uomo questo come ce l'ha i capelli Lloyd madonna come corre Lloyd attenzione l'ho visto dall'altra parte il filtrantone lungo a ricevere Niente da fare Allora un crossino non capisco perché queste hanno tutti i capelli corti magari se le legano per giocare Sono molto esperto sul calcio femminile La prima retta è incredibile la mia fighetta Vediamo un po' chi ha segnato Ah proprio lei Lloyd La capita La capitana Cioè come si dice Sì la capitana Comunque corrono come una madonna Sanno schillare Attenzione Wombach ancora lei Voglio tentare un tiro dalla distanza Niente da fare Che cosa fai impazzito Lei gioca col portiere Che fai melina Stronsa Comunque è troppo figo giocare con una donna Cioè non ci posso credere ancora che Sto usando delle gonnelle per giocare Chissà com'è quando poi Cioè loro tipo se tireranno i capelli Se fai dei contrasti troppo accesi Oddio t'ho visto però mi devi partire Bravissima puta Arriva fino in fuori Oh Oh Ma sei matto Ma quello è rigore Carly si chiama quella Carly Ray Jepsen So call me maybe Boom Non c'è un cazzo da fare Rapino è Perché lei rapina l'area Niente Non si entra Eh oh Con sti capelli lunghi Eh vedi te rompe poco E la madonna Quanto corre quella No 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 Col cazzo che te faccio da palla Amico Amico fermati Brava Stai facendo il video Brava No 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 Non devi fare gol E vabbè Cazzo è Manco messi con quella freddezza Te la spara dentro la porta Ok Niente è perduto ragazzuoli Si sale Si sale Tra tre Mamma mia Come tiene palla Vabbè poi è normale perderla Se queste t'aggrediscono tutte Prendendoti per il culo Cioè nel senso letterale Del termine Ah Dammi la palla Saliamo Saliamo Klingeberg Cosa cazzo è Pensavo di giocare con gli Stati Uniti Non con i tedeschi Rapino è Ancora lei Rapino è Uh In mezzo Niente da fare Passaggio prevedibile Incredibilissimo O comunque Staloid è fortissima Cioè non so Non ho idea Di chi cazzo sia Però sembra veramente Troppo forte E lasciami la palla Te devo strappare i capelli Troia Solo Il portiere si chiama Solo Ed è una donna Che sei la figlia di Jan Solo Dio buono Krieger Krieger La vedo Bello Apri 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 tutto Cos'è Ma dai Ma mi puoi fischiare adesso Che andavo in porta A segnare Comunque si sente molto La differenza Tra il giocare Con queste donne E gli uomini Normali Cioè sono proprio Anche sui contrasti Volano via Volano letteralmente via È una roba incredibile Non offrono la minima resistenza A uno scontro Però cioè Che cazzo fa Motorello Daglie Dammi la palla Che te le voglio rompe Quelle gambe De merda No No Brava Mamma mia La sua bravura Andiamo su Prosegui Bravissima Heath Heath Ancora lei Oddio Dagliela qua Mannoli Pippa di merda Si va bene Incredibile Mi devi dare la palla Che voglio salire E tentare Tiri a giro Con queste femmene A femmene Andiamo su Daglie Allora adesso Con molta calma Ci siamo quasi Ci siamo quasi Ma questi marcano troppo bene Cioè sta Germania Femminile è fortissima E riparti Bello Bellissimo Vabbè di grossone Ma che cazzo C'era arrivato Quello era pure gol Notta sul contrasto Brava conquista sta palla Conquista la palla Come rasse E il crow Va in mezzo Brava E dai Tieni te sta palla Porca puttana Cioè non riesce Andar via Sull'uno contro uno Sei una pippa Dai regà Non voglio arrivare Dai tocca andare Ai supplementari Che palle però Guarda Il mio strapotere No No Veramente no Ascoltate Cioè volete far melina Tutto il giorno O mi date palla Grazie Adesso è un'occasione Buona per salire Ok Mi piace Come stiamo giocando E te fai sempre Anticipa Però Morgan Che cazzo Torna sulla terra Gioca con noi Bello Mamma mia come anticipa Morgan Non ritiro tutto quello Che ho detto su di te Vabbè no scherzo Sei una pippa Cioè va a due all'ora E corri Mettecela un po' di grinta Su quelle gambe Lei che sta a giocare a Tetris Apri sulla fascia per Krieger Krieger in mezzo Bellissimo Come si gira Incredibile Oh la madonna Però non è possibile Ma ha falciato le gambe St'arbitro St'arbitra Un fischiancazzo Arbitressa Come si dice Dai 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 Non demordere Non demordere Bravissima Questa sembra una nanetta Senza Senza nulla volere Alle ragazze basse Per carità Però è tipo troppo bassa Cioè in un contrasto Non vincerà mai niente Oddio Bellissimo Arca troia C'è ancora la difesa Troppo schierata No regà Non piamo gol adesso Proprio no Non l'accetto Che piamo gol Me la vuoi da sta palla Si fai Fa pure No guarda Se gli da rigore Oh non ci credo Ah ok Un attimo pensavo Che era rigore E vabbè ragazzi Si andrà Ai calci di rigore Oh però fighetta sta Morgan È proprio carina Ho visto Dalla sua piccola foto Morgan Attenzione Primo calcio di rigore In codino Cazzo Che tiro di merda Questo lo para Sicura Invece no Morgan la insacca Senza troppi problemi Attenzione Adesso Solo contro il numero 10 Della squadra avversaria Vaffanculo Centrale Cioè Ma dove stai Wombach Io tenterei un pallonetto con lei Mamma mia Va fuori Va fuori Uuuu A casa A casa Un pallonetto Da una donna Proprio a casa Solo Solo Dove saltiamo Oh Ma è dire Tutti i centrali Il computer Cioè ma va in culo Rapino è Tuck Madonna Questa gliela sparo All'incrocio Non ci credo L'ha presa Cioè l'unico tiro Che ho centrato Perfettamente L'ha preso Dai che questo Lo piamo pure noi Tanto mo La tirerà La tirerà Uuuu A casa Che parata Gli ho fatto Yeet Attenzione Qui arriviamo A livelli In cui sta Centrale Che sappia Tirare più di tanto Vabbè Non è possibile Se vede Che è computer Cioè Lui calcola La traiettoria Di dove andrà Il mio tiro Dai Madonna Donna santa Questa la vedo Tira centrale O se la tira in culo Attenzione Se sbaglio questo È finita E non lo sbaglierò La capitana Oh E non è possibile Dai ma vai in culo L'ha parata Tutte L'ha parata È computer Questo È script No vabbè Non ha vinto Meritatamente Perché la partita Ce la siamo giocata Così Però i rigori Dai Che perdo Contro un computer Non è accettabile Non è Fottutamente Accettabile Comunque vabbè Ragazzi Abbiamo provato Questa parte Femminile Di FIFA 16 Spero che questo video Vi sia piaciuto In caso vi salta Lasciare un bel Piaggio Un commento E se non l'avete ancora fatto Di iscrivervi al mio canale Noi ci vediamo Con un prossimo video Bella ragazzi Ciao da Zampetti Bella